bella a tutti ragazzi ed eccoci qua in un nuovo video io sono francesco e io sono valerio e oggi andremo a fare un quiz per vedere quanti anime conosciamo infatti come starete vedendo dallo schermo qui sotto qui c'è un quiz e sono 60 domande 60 anime 60 anime io non so manco che esistono 60 anime praticamente dovrebbe essere così spunta l'immagine dobbiamo scrivere il nome dell'anime quindi andiamo a fare brutta figura e quindi sarà divertente perché ragazzi come vedete qui sotto ci sono le percentuali delle persone che indovinano a dipendere il 16 per cento è arrivato da 1 a 4 e si è fermata quindi in generale su 60 ne indovinate 4 perché magari ha risposto anche altre cose però no vabbè non infatti lo dobbiamo scrivere quindi non è che tipo a crocette quindi o la sai o la sai quindi sarà divertente solo l'1,1 per cento le sapute tutte qualche quello che c'è anche il tempo in 15 minuti come hanno fatto 15 minuti ma probabilmente lo finiremo lo finiremo anche prima perché se non lo conosciamo un anime è inutile che facciamo aspettare 15 minuti iniziamolo di prima vabbè lo conosciamo del trago non è tutto un po' no 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 chi si può andare avanti ah all'onore è un po' è un po' e questo è un po' e questo è un po' e questo è Naruto ok ok e poi hai iniziato i problemi no 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 io ce l'avrò un'idea però magari sto che io non è vedi nota potrebbe essere sword art online perché sta andando quelle sono le armi no però ci sono i due personaggi quelli là il maschio e la femmina andiamo avanti ok qua è più antico molto antico io con le spade conosco sono gli intamo va bene questo lo potremmo saltare questo è un antico quanto siamo preparati ok no allora su qua è la forma di alacchimi ok 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 non ho idea questo è Death Note oh già ne abbiamo indovinato è tipo 6 6 su 60 quindi no questo non è non ho mai visto questo personaggio Gintama Gintama eh sì lo tocchia no aspetta no 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 non è Gintama è lui però io mi ricordo questo qua a me è famiglia questo è un'unica di bianco eh questo qua è un personaggio però non ho idea di gay di gay di gay a me è dire di riederteli tutti poi casomai siamo i cheater eeeh no qualche cosa di gay ragazzi non lo so questi sono i soliti anime gay di cucina di cucina questo è è di io degli spettri però è in italiano io degli spettri dai che lo prende eh allora è qualcosa di io degli spettri sicuro sicuro però in inglese non so come si dica no io degli spettri segniamoci perché 14 lo sappiamo che sono quello stesso che ha scritto Anderix Hunter eh va bene io degli spettri lo sappiamo 14 questo è attacco on time ok ci siamo eeeh zombie non ho idea ma che sono zombie samurai non lo so soliter soliter ok non ho idea questo è tipo mazinga mazinga non lo so scrivi mazinga ma non non ho mai seguito tipo cosa così e allora è lì che robò non lo so jig robò magari stiamo no lo so vabbè robottoni ragazzi per noi sono tutti uguali sto su 60 no questo è sword art sword art lani sword art lani no no stia che che è l'upper grena oh no no all'anime vabbè va va qua in scherzo ok ma non è che rossana ma che ne so ma ancora con questi samurai ma che vuol dire sembra una foto dei quaderni di storia dei libri di storia allora io lo so però mi sta venendo io lo so ma non mi sta venendo lo so però che qua lo so questo no lo so io so vedo delle stadi con il gintama invece l'abbia superato il gintama questo sembra un po' tipo a one piece con questi occhi così no 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 non so cos'è non lo so ehm code gears prego scrivi lei eh incredibile non lo so no cowboy bebop cowboy bebop questo qua vabbè si che è la bebop mamma mia gintama gintama no c'erano con i capelli bianchi in realtà se lo romano vabbè questa questa c'è sta se lo romano se lo romano si scriverà bello bianchi con la y si ok beblen kenny guerriero no kenny ah se kenny kenny guerriero forse vuole sapere il nome quello tipo strano eh in inglese lo voglio sapere ma che si chiama in altro modo eh perché forse ok da noi kenny guerriero però in verità si chiama kenny suga karuk si chiamerà in altro modo in inglese io speravo che con kenny se lo prendessi vabbè la 35 la sappiamo bello ma qui la 35 macchina macchina e capitano narro capitano narro no eh si capitano 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 calzetto aspetta capitano capitano nooo è lui guardalo è lui è che la spida si chiama non lo so vabbè diciamo che lo sappiamo e già siamo attenti che sappiamo non ci dà questo mi ricordo qualcosa però non ho idea è tipo death eeeh è divertente però questa qua lo capisco ma mancano 6 minuti ancora siamo alla quarantena dive dive vive vabbè sono ragazzi anna gay di cina ha un altro ritratto dei libri di storia eeeh questo è Trigan Trigan Trigun mamma mia anime gay ragazzi sono tutti anime gay e questo è pure capitanarlo e scrivevogli capitanarlo aspetta no non è capitanarlo e sono uguali guardate infatti ah perchè forse vuole sapere i nomi delle serie tipo capitanarlo vabbè 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 capitanarlo kill return vabbè questo è berserk berserk grande eeeh kuroro no basket oh ma ne stiamo indovinando tantissime non me l'aspettavo se non è kuroro no basket è l'altro lo di basket che è kuroro no c'è kuroro no basket e c'è un altro che si chiama un pezzo no basket eeeh l'altro no basket no no c'è proprio un altro nome poi si inizia con la G andiamo avanti che affetto che affetto ma no no niente pokemon mmmm cosa potrà meglio essere questo ok eeeh helsing eeeh si helsing e con due L gaaah mamma mia eeeh eeeh non ho idea eeeh non ho idea eeeh non ho idea eeeh non ho idea eeeh digimon eeeh digimon eeeh 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 ma chi l'ho mai saputo il nome di questo qua? quello che riusciva a sedere questo si tutti lo conosciamo ma nessuno sa da che anime proviene eeeh l'anime si chiama come si chiama lui? bororo non lo so non lo so eeeh 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 vài eeeh 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 non so allora slump con la vabbè dottor slump sicuramente puoi scrivere l'ump nel cappello perchè no no questo ce lo dovete fare perchè dottore slump ma dai ragazzi ma no eh vabbè non fai schifo allora la 14 allora questo qua io ho degli spettri no no ma perchè lo sappia si chiama io ho dei rispetti o qualcosa del genere io ho degli spettri no io ho degli spettri andiamo a vedere lui è si vabbè ehm eh allora eh no mi non è niente eh dove è si ma questo qua è giapponese eh allora non lo so vabbè è lui guarda è quello vabbè lo sappiamo vabbè 24 20 eh poi questo qua allora voglio provare una cosa aspetta come siamo shaman game vediamo se è questo eh no eh no quello c'è un'icola dai non è così però lo so ma non mi viene questo Ken allora cerchiamo Ken il guerriero il guerriero ho avuto un'icola vediamo questo dove nord come l'ha preso ho avuto un'icola no non lo fai vedere più no non te lo fai vedere più questo è Capitan Harlock questo è Capitan Harlock aspetta vediamo anche oh però mancano 3 secondi 5 secondi vabbè vabbè Ugot 40% e in totale è a 43 Space Pirate Capitan Harlock Capitain meglio abbiamo messo Capitan Capitain Capitain andiamo aprendo a vederli tutti allora dai vabbè ok l'ho visto allora Fuella Magica ah Magica 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 eh su Vivi non sbaglio però vabbè non l'ho messo vabbè per me c'è un palù vabbè alberante ninja scroll ovviamente ok di Grame mai conosciuto inumisha inumisha mai conosciuto ora che hai ovviamente in kagiskool host club yuyu yuyu akatsu vediamo quello che avevamo visto Agusho vabbè va afro samurai grandissimi di levata toradora mobile shit grand kingdom kingdom vabbè va bene anche vampire hunter d eurega 7 eurega 7 bopo bobo 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 aspetta io voglio entendiamo quello di canigueriamo la chiamata first home the north star si il pugno della stella del nord e noi ci avevamo messo un'altra volta e ce l'ha preso grandioso eh vabbè e io adesso voglio vedere l'altro di kingdom harlock free va bene super dimension pedo galaxy express ah non è questo o quello dico galaxy spaccano scherzo uroro uroro ma noi gli abbiamo messo oppure abbiamo scherzo sbagliato a scrivere basket coruro può essere ma può essere abbiamo sbagliato giganto 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 angelina angeles in the shell aspetta noi non abbiamo spinto il vero si ma ma perché c'erano fatto il film si ma non lo so plagio su plagio crayon shinchano crayon shinchano astro boy vero astro boy vabbè oh grandi grandi principe del tennis incredibile scherzo come si chiama tutti scienze ninja scienze ninja però l'altro l'altro di l'altro di la versione questo qua galaxy express 99 e adesso comunque ha capito marlock l'altro di l'altro di l'altro di 24 e ci mettiamo qui siamo nel 10,5 quello che diciamo che volendo qualcosa ci saremmo arrivati quindi però diciamo che non abbiamo indovinato 1,4 come il 16% che magari tipo non sanno manco cos'è un anime sanno solo dragon e naruto e naruto quindi sono tre rientro nella categoria quindi alla fine secondo me ci siamo andati anche abbastanza bene alla fine non abbiamo fatto pensavo peggio molto peggio però veramente 24 su 60 è un grande traguardo per me perchè sono quasi la metà alla fine ci poteva essere io degli spettri potevo mettere capitan arlock se ci mettevo curorono basket e c'erano altri tre 27 quindi eravamo quasi a metà quasi a metà quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto ma secondo me non ci sarà arrivato nessuno a questa parte del video aspetta tanto pronto? ok due secondi sto ce n'è vabbè chiudiamo ok ragazzi se siete arrivati a questo punto del video se non penso ci sia nessuno infatti scrivete che sarà bello lungo scrivete io so cosa vuol no no un hashtag kenny guerrier hashtag capitan arlock capitan arlock no hashtag 999 ok va hashtag 999 senza dire niente e in più diteci se voi ne sapevate qualcuno in più o o se siete oppure quando avete fatto se c'è questo qua ve lo copiate e lo andate a fare scriveteci il vostro risultato quanto avete fatto no io se non sbaglio avevo visto un video su youtube dove uno praticamente aveva azzeccato tutto vabbè ecco l'1,1% che aveva visto qua sotto ecco su aspetta mi vai c'è sito poi quanti l'hanno fatto 2 miliardi 2 miliardi? a noi vabbè quitte spray a 2 miliardi su 2 miliardi di persone solo l'1,1% li ha fatti tutti vabbè ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao